Qualche premio è stato assegnato in contumacia, per l'assenza si fa perdire dei beneficiati, la Befana di Malalingua ha pescato ovunque per portare i suoi doni. Carbone a Franca Antonio Genovese, perché della politica ne ha fatto una questione di famiglia. Il Carbone anche a due degli assessori della Giunta a Corinti, Daniele Ialacqua e Sebastiano Pino. Daniele Ialacqua, il più delle volte nella gestione dei rifiuti, è apparso come un pugile suonato. Messina, nella raccolta differenziata in Sicilia, occupa una delle ultime posizioni e non supera il 13%, ma il suo attaccamento al sindaco a Corinti e all'ideologia comunista gli fa meritare anche un bel lecca-lecca. L'assessore Sebastiano Pino governa un settore, quello dell'edilizia scolastica, che da quando c'è lui non ha fatto passi sostanziali. Secondo il capo dell'ispettorato del lavoro, nessuno degli edifici scolastici è al sicuro e i progetti per mettere in sicurezza le scuole restano al palo. Carbone al politico trombato e riciclato, sono tanti coloro che subite la sconfitta alle regionali, hanno cercato casa altrove, magari in uno schieramento opposto a quello con cui si erano candidati. Carbone al messinese zaurdo e incivile, che porta i cani a spasso senza sacchetto e abbandona ogni genere di rifiuto in strada. Carbone, infine, al consigliere comunale ignoto, o meglio, a coloro che non sanno, come nel caso dell'isola pedonale, da che parte stare, quindi si astengono e si allontanano dall'aula. Le caramelle ai ragazzi del Mauro Lico, che hanno realizzato una protesta non finalizzata, la semplice sparatina, e sono arrivati a portare le loro rivendicazioni sino alla stanza del Presidente della Regione. Caramelle al segretario provinciale della UIL, trasporti Michele Barresi, perché è amico della Befana e perché non ha abbandonato i lavoratori posati dalle ferrovie. Caramelle a Mario Biancuso, consigliere del Sesto Quartiere, perché si consolida il fatto che del suo svincolo e del pedaggio tra i politici non se ne frega proprio nessuno. Caramelle a Lusi Fenec, perché ha avuto il coraggio al Comune di dire qualcosa di anti a Corintiano. Caramelle ad Antonella Russo, perché al Comune ha sempre mostrato grande coerenza ed attaccamento alla bandiera, anche quando sembrava rimasta l'ultima dei Moicani. Caramelle, infine, a un dirigente natale Cucè, sino a fine febbraio sarà a Lamame a Messina Ambiente. Con lui la situazione rifiuti, almeno l'emergenza è stata risolta. Lo aspettano acqua e fogne. Auguri.